Se Napoli è la capitale del caffè e grazie a una donna, la regina Maria Carolina... Vai, rilassati. Sembri così stressato, prendi il caffè. Un figliarò. Prendi il caffè. Caro, aspetta il caffè. No, no, paghi presto. Lo prendo dopo. Vai. Assaggiate questo vino, è proprio buono. No, 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 no. Prova questo. No. Ma ci ti non lo voglio. Tu non lo voglio questo caffè. Non lo voglio, mamma mia. Come te lo aggiorisci. Ma come vuoi questo caffè? Poi da odio questo caffè. Ma assaggiate, assaggiate. Oh, mamma mia. E' proprio buono. Ed è grazie alla regina Maria Carolina che tutto il mondo viene qui a Napoli a bere questo famoso caffè. Andere. Allora.